Siamo alla quinta del convegno, il premio Lethal Must, un confronto per anziani di categoria B, sono in DECLB, non corrono Tetis Moon e Urania B, Miguel WF, Ucci Charles M, Taylor Dicuma, Ticket to Ride, Umberto Axe, in seconda Tessa, Hobbit Sonic, Uragano, Stecca, Un Amore Petit, Sonia, Roger Waters. E la macchina che va via in velocità, Miguel WF lungo la corda si mantiene in vantaggio, lo segue dalla seconda fila, Tessa Hobbit Sonic, che poi però sceglie di andare a largo Tessa Hobbit Sonic. E allora, Miguel al comando, all'esterno Taylor Dicuma, poi lungo lo steccato Ucci Charles M, a largo Tessa Hobbit Sonic, più all'esterno Umberto Axe. Miguel al comando, 13 e mezzo il lancio, adesso vediamo il quarto iniziale, 400 in 28 e pochi spiccioli, insiste a largo Taylor Dicuma e alla fine prende il sopravvento su Miguel. WF 600 iniziali, in 43 molto scarso, Miguel torna all'esterno, va su Taylor Dicuma, in anticipo su Tessa Hobbit Sonic, e intanto gli 800 vanno via, in 59. Valli che vanno ad affrontare la retta opposta alle tribune, a questo punto dal fondo viene via Sonia, intanto Miguel WF al comando, con il primo chilometro in 1,13 e mezzo. A largo Tessa Hobbit Sonic, si avvicina Sonia, in bocco della curva finale, Miguel, Tessa, poi Sonia. Siamo sul finire della piegata conclusiva con Miguel che cerca la fuga, Tessa Hobbit Sonic che lo insegue, la rottura di Taylor Dicuma, Sonia in terza posizione, Miguel in vantaggio, poi Tessa e Sonia. Miguel che si difende ancora, Sonia che si avvicina, anzi Tessa che si avvicina e poi Sonia sul palo, Miguel davanti a Tessa che contiene Sonia. Miguel WF, versione AP, 12 anni e non sentirli, la guida di Federico Esposito, perfetto nell'esecuzione, la quota di 5,02 e il 1,57 scarso sul mio cronometro. Siamo nell'ordine del 1,13, Miguel WF nonostante gli anni, grazie al fantastico lavoro del suo trainer Massimo Finetti, vince ancora a ottime medie in contesti importanti per i colori della scuderia Alcor di Giusto Mariangela. 5,02, immenso, Miguel WF. Grazie a tutti.